salve salve come va bentornati 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 ci siamo per questa serata di paura per questa avventura questo nuovo inizio con among the slip che vuol dire letteralmente among nel med nel bel mezzo del sonno una barzelletta pare comunque ragazzi mi sono andato ad informare e among the slip dura per l'esattezza due ore e mezza quindi probabilmente stasera lo finiamo katia guarda cosa è successo parco due porco due dove la professionalità allora noi iniziamo a dire spegni la luce perché non vedo un cazzo ragazzi se spengo la luce non vedo un cazzo tanto mi cago addosso lo stesso vi cagherete addosso anche voi ecco visto selezione a capitolo nuova storia vai cosa merda è sì ma sto già male ma sono cosa sono una una bollicina della ferralelle non sto capendo che sono dentro una bottiglia a sto bevendo e mica sono sbronzo ormai ma che va bene ehi puttana ho fame ma guarda lo come che si chiamava sta cagata per la matematica usano i cinesi per per sorgere il mondo sono proprio un ometto fermi devo alzare dio no cioè se schiaccio le opzioni mi metto le mani in faccia bellissima sta roba ehi mi sono cagato 2 anni però vita lunga abaco lo zuzzerello è vero non sapevo che mia madre fosse un'aliena chugga 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 non mi tocca no no quella mia voce orco 2 la polizia corri donna ci hanno scoperti lei al fisico di una depressa comunque posso ribaltare cazzo succede oh Che sta succedendo ragazzi? La stanno menando? È tornato papà? Chi è? Ah, forse sono io che ho paura quando sto da solo, è possibile? E andiamo di sopra, va bene. È un rappimento, aiuta! Che ciondolo orribile. Quanto l'hai pagato? Due euro alle bancarelle sta roba. Adesso mi lascia cadere, mi droppa, muoio oppure mi mette in lavatrice come quelle mamme brave degli anni 80. Ciao. È diventato Fallout 3. Porco due. Liberami! Ah, posso muovermi? Tieni premuto left mouse button per raccogliere l'oggetto. Sono in piedi, so già camminare. Che è stato? Lorsetto è lui, è il nostro amico, colui che ci salverà. Devo trovare un modo per uscire da qui. Sto arrivando baby. Ah, posso... Ah, ma cazzo si abbassa subito però, è reattivo. Space per arrampicarti. Mica, vomiterò alla fine della live. Ok. Ma non ho la pancia, che cazzo di bambino sono? Posso correre? Addirittura? Eeeh! Pronto? Dov'è? Ma... È fuggito. Bene, è già inquietante così. C'è un bottone qua. Oh, sì! Dove si è incastrato? Eccolo qui. Bastardo, è lì. Lo vedo. Mi serve un'arma per tramortirlo. Tu. Oh! Ride. Hey, hai trovato me. Ma porca puttana, che disgusto che sei. Mh... Eh... Devo... Eh... Dino. Non c'è tanto di parlare. Eh, direi. Cazzo, c'avrò... Quanto c'avrò? Sei mesi di vita. No, forse un anno o due, se cammino. Va bene. Ma che cazzo di infarto è, mentale? Facciamo che tutti i volti... Tutti i volti io mi nascondo... No. Come here. Turn around and cover your eyes. Perché dovrei? Ah, wow. There. You can look now. Eh! Non t'avvicinare! Eh! Eh! No, 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 no. Sei inquietante. Posso prenderti a pugni, a calci? Che c'è? Che ha? Che c'hai sul braccio? Una topa? Certo che cazzo, la mamma con tutti i soldi che ha potrebbe anche pigliare un pupazzo nuovo al bimbo, no? Quanto vorrei prenderlo a pugni, ragazzi? Figlio del demonio. E quindi? Warmer. Ma come Warmer? Sei qua, ti vedo. Ah no, devo trovare l'elefantino, non devo trovare lui, è vero? You found it. Che pirla, pensavo di dover trovare lui, infatti c'è, che cazzo, ma non si è nascosto? Eh, ancora sta cazzata di... Aspetta, eh. Voilà! Cazzo, questo bambino capisce tutto al volo, comunque. Abbastanza gay, vero? Vabbè, quindi? Che facciamo della nostra vita? Cazzo, è piccolo e tosto sto stronzetto, eh. 300 cavalli. Mettiti sui binari, stronzo. Eh? Round and round. Comunque fai il fumo, in cui tantissima sta roba. Per me ha... No! Ci serve un posto molto buio. Perfetto. Va bene, fidiamoci di questo strano sconosciuto. Siamo pronti? Ci siamo, ragazzi. Chiudiamo le ante, va bene. A posto. Bene, zio. Se tu ever feel scared, in a dark place like this, you can hug me tightly. Eh, non ti vedo, non so dove sei. Protetta? F per abbracciare Teddy. Ah, e così vedo. Orco 2, ma... Era così profondo l'armadio? Ma che cazzo? Bene, dai! Che è sto suono? Non credo che siamo qui. Dobbiamo essere attiati. Non mi piace questo. Ah, qualcuno sta cercando di accendere. Questo è quando provi a fare la pasta. Accendi la fiammela del gas e non va. Mezz'ora. Bene, dai! Non avrò paura. È sangue questo? No, è nero. Ehi! Ehi! Urlare è la migliore protezione, ragazzi. Non vedo un... Che cazzo di scritta è questa? Lo sapevo. I cinesi. No, 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 no. Shhh. Siamo in un'altra dimensione? Ma va a fa' un culo, va. Lei è orribile. Raramente ho mai visto dei personaggi fatti così male, eh. Madre, sembri una formica. Che diamine. Ha la faccia di un insetto. C'è una spanna tra un occhio e l'altro. Un pappagallo. Eh, sembra esagerato. Ma che ore sono, scusami? Ma guarda, tutte le robe elettroniche sfarfallano e fanno fumo. Ma chiamate qualcuno. Adesso mi soffoca col cuscino. Wow. Mi addormento veloce. Siamo fottuti. Devo vedere perché se il gioco è fatto molto bene e riesce proprio a rappresentare quello che un bambino vede, allora è tanta roba. Se invece è fatto di merda, vuole risultare una trasciata colossale. Si sta per alzare il coniglio. Il... Oh. È un demone. Oh, cazzo. Bene. Qualcosa ha afferrato Teddy. Vabbè, ragazzi, non è un problema mio. Che cazzo succede? Ehi! Portergheist. Il bambino non ha fiatato. Eh! La domanda è, è uno di quei giochi dove non vedrò un cazzo dall'inizio alla fine? La risposta è yes. Bene, mi fa piacere capire... Vabbè, ragazzi, perfetto. Intanto mi fa piacere che siamo pelati. Questo è fondamentale. Tu vieni con me. Che brutta macchina. E là? Q e E per sbirciare dietro gli angoli? Ah, è diventato Rainbow Six Siege. Tecnico, un gioco tecnico. Ma io direi di strisciare come uno stronzo. Ok, forse devo spingere sto sgabello per salire. Quello è il nostro padre? Ma ha la barba! È un bravo papà! Allora, saliamo qua. Ehi, ehi, ehi! Cazzo, di suoni sono! Ma scusami. Provo a dare un'altra spinta? Aprite! Ah! Sono demente io. Ma stavo a spingere. Gli ho tirato. Ah, ma è la lama di stoviglia. Oddio, è da dentro? Teddy, no! Teddy! Oh boy! Che cazzo faccio ad aprire? Che casino fa sta roba? Vieni duro! Non ha funzionato. La spina, la spina! Voilà! Porco due! Presemente è una citazione a Schindlerlist. Che ti è fatto questo? Lo troverò. E mi ciuccerò il dito. Quindi se schiaccio F... Ok, adesso Teddy ce l'ho. Salve. Torca puttana, quanto è buio. Ehi, 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 ehi! No, 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 no! Il cazzo! Ho paura, ragazzi. Strisciamo. Ma noi siamo un ometto coraggioso. Dove cazzo si scende? Ah! Addirittura... Eh, vabbè, ma... Sta madre qua è iperprotettiva, comunque, eh. Io lo dico. Questo domino è super intelligente. E la madre... Va bene. Sto gattonando sulle scale. Deve fare un male porco. Perché in ogni gioco non si vede mai una minchia? Attenzione. Samara, sei tu? Salve! Ehi! Porca puttana! No, 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 no! Ehi! Ehi! Si può spegnere, sta a fare. Cosa stavamo guardando? Ssh! Silenzio! Piano. 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 È un beat incredibile. Ha detto che il cardiaco di un pupo non è così lento. È molto più veloce. Ssh! C'è un ladro, madre! Me ne occupo io! Eh, che cazzo di ansia! Via, 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 via! Dove cazzo è? Secondo me è scriptato all'inizio. È chiusa. Bene, buono. Mi serve una sedia. Scusami un attimo, ma... E tu? Ma che cazzo di termosifoni, ma... A parte che il termosifone è più piccolo della storia, è alto quanto me. Ah, aspetta, ho un'idea. Se utilizzo l'anta del frigorifero dovrei riuscire a salire, ma... Non sveglio. E da pazzi psicopatici non ha funzionato. Vabbè, non posso salire da qua, sono un demente. Eh, ce l'abbiamo fatta. Vai, con i piedi sui fornelli bollenti. Non so se c'è la fascia. Voilà! Porca troia, vestito di merda. Ssh! Che cazzo è? Ma ragazzi, mi sa molto di scriptato. Marta, ho detto. Corri, 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 corri. No, non mettete suoni spaventosi quando poi non succede un cazzo. Qui la porta... Madre? Tutto bene? Dormi profondamente? Dove sta il mostro? Sotto al letto. Quindi, io sono il mostro. Plot twist. Non posso aver paura se io sono il mostro. Ah, dipinge. È una madre... È una madre subversiva, una madre artistica. Si vedeva dal ciondolo, eh. Si capiva dal ciondolo, ha un certo gusto, però. Eeeh... No, 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 no. Mi sto sintonizzando? Che succede? Spavento di merda! Il sangue della bestia. Dio mio. Non riesco a passare, ragazzi. Si bugga tutto in sto cazzo di gioco. Ma porca puttana, ma che succede? Oh. Ok. Ma che cazzo? Cosa fai? Mi devo cagare adosso ormai? Non me ne frega più un cazzo, bastardo. Non ho più paura di te. È il primo jumpscare quello che vale. È il primo ti amo. La prima emozione, il primo abbraccio. Il primo bacio. La prima coltellata. Vabbè, ma non vale. È ovvio che uno si spaventa con i jumpscare. Tu mi devi creare tensione. Non mi devi spaventare con bu. Che cazzo? Benissimo. Oh, la lampada della Pixar. Citazione. Guarda, un mondo paranormale. Ci entriamo? Quello è un occhio? Non lo so. E andiamo. Perfetto. Ma ho ancora Teddy. Com'è? E la nonna? È la nonna il problema di tutto. Le nonne sono inquietanti, ragazzi. Dategli una testata. Quando tornate dalla vostra nonna dopo il Covid, dategli una testata. Quindi, il ciondolo è una memoria della nonna? Ma io l'ho detto che quel ciondolo è una vaccata. Andiamo per spaventarci. Tra tre. Due. Uno. Ma siamo nel seminterrato? Ma perché mai, santo Dio, dovrà andare nel seminterrato? Tab per aprire l'inventario? Ah, c'è un inventario. E andiamo. È esattamente così che sono nato. E andiamo. E andiamo. E andiamo.